L'autorità nazionale anticorruzione, ANAC, ha monitorato oltre mille procedure d'affidamento per un valore complessivo di 1,6 miliardi di euro nel contesto della ricostruzione post-sisma 2016 in Italia centrale. Secondo il presidente Giuseppe Busia, l'intervento dell'ANAC ha garantito legalità e trasparenza riducendo i contenziosi e accelerando i tempi di realizzazione delle opere. L'azione di supporto dell'ANAC ha permesso di superare le paure delle amministrazioni locali legate alle procedure di gara, spesso bloccate dal timore di firmare atti che potessero comportare conseguenze legali. Il numero esiguo di contenziosi emersi, solo 12 casi e la prevalenza di esiti favorevoli alla stazione appaltante dimostrano l'efficacia del monitoraggio preventivo. Tra i progetti più rilevanti seguiti da ANAC nel 2024, l'accordo quadro per il rifacimento delle opere di urbanizzazione da matrice, l'adeguamento sismico del comando provinciale dei vigili del fuoco di macerata e la ricostruzione di scuole a Pizzoli e Foligno. Busia ha sottolineato l'importanza di garantire opere di qualità sostenibili e rispettose dell'ambiente in modo da ricostruire con una visione orientata al futuro. Inoltre il supporto dell'ANAC ha contribuito a qualificare ulteriormente le stazioni appaltanti nelle aree colpite dal sisma, migliorando la loro capacità di gestire progetti complessi e riducendo i tempi d'attuazione. Questo impegno ha dimostrato come la vigilanza preventiva possa non solo prevenire la corruzione ma anche favorire una ricostruzione efficiente e di alta qualità rispondendo alle esigenze delle comunità locali.